Buongiorno amici, ciao amici, bentornati in un nuovo video, io sono Antiniska e oggi siamo qui per Little Nightmares, sigla e via! 3, 2, 1, io... Ma non avevo mai notato che c'era la mano lì, sotto il tavolo, in questo scheromato, eccoci qua. Siamo pronti, riprendi il partito. Ah, Geromo, qua non sapevo cosa dobbiamo fare. Ma ancora non so comunque cosa dobbiamo fare. Ma perché poi non posso neanche tornare indietro, perché quella è chiusa. Magari nel frattempo hanno fatto altre salsicce. Ne c'è neanche più la mia di salsiccia, appesa. Oh, questo è gigante. Ne voglio un altro. Sì, ma mi fa solo una salsiccia. Sì, ma mi fa solo una salsiccia. Guarda che io riesco ad indolarmi. Se io riesco ad indolarmi forte, magari riesco a saltare là. Ma la cosa è che io riesco ad indolare, ma non è che io riesco ad indolare. Ma l'altro è che io riesco ad indolare, è il che non è che io riesco ad indolare. Ma qualcosa lì io non lo posso prendere No Oddio Ma un'altra volta sono entrata e non mi ha fatto andare qui Ma paurissima raga Quindi qua non posso andare Ok scusate Mio padre ha regalato la lavastoria a mia madre e lei non doveva vederla solo che oggi le dovevo lavorare Ma non ha lavorato quindi a casa E quindi l'ho chiusa in bagno perché loro dovevano entrare E' l'uomo qui che stavo cercando di saltare Non riesco a prendere qualcosa lì Sono sicura che io devo prendere qualcosa Non riesco ragazzi Vino qui Però questa banca qui sarà qui per qualcosa Non riesco a prendere 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 qualcosa E' l'uomo E' l'uomo E' l'uomo Saia l'uomo Una nuova cosa che mi servirebbe, è quello che si vede anche a me nero. Oddio! Oddio, me lo sono riuscita a mettere il coso lì. Quindi ora devo tornare giù e farvi un altro salsiccio. Guardate, un'altra salsiccia. Cioè devo far così finché riesco ad appendermi. Non ci credo. Non ci credo. Sì? Sì? No! Sì? 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 Questa Ma non posso tipo metterne più di uno No perché non ce n'è più E anche qui no E questo è l'ultimo Se non riesco a fare questo non riesco più Per farci è così Dai grande Vai 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 Grande Ce l'ho fatta raga Sembra stupida invece Raga ma quanto mi fanno paura sti cosi a pesca? Sì No Ma Ma Mi serve una chiave via 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 no 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 anche questo video finisce qui io vi mando un bacio grande mi raccomando lasciate un like, commentate condividete, seguitemi sui social che trovate in fondo al video o giù nell'info box noi ci vediamo al prossimo video a presto a presto